Ripeto, i singoli fanno parte del gruppo e quando un singolo non ha la sua migliore serata non significa che il gruppo non possa far bene e quindi è il gruppo che non è riuscito come gruppo di fare la prestazione che serviva, specialmente secondo tempo. Il secondo gol ha assolutamente ammazzato le forze della squadra per reagire, hanno cercato, hanno provato però non più come un gruppo unito con tutti la stessa... No, proprio il secondo tempo, dopo l'occasione del Milan la partita era in nostra mano, non hanno creato niente, proprio il secondo tempo perché il secondo gol sono state partite nell'ultimo mese, sono state alcune partite fatte così bene e era colto zero e quindi questo per una squadra che per tanto tempo ha dovuto lottare, correre dietro i fatti, è duro e quindi si comprende molto bene questa mancanza di reazione, non per mancanza di volontà ma proprio perché uno non ce la fa.